Buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento con Gnovi. Sare stato un tragico incidendo, sarei sull'autostrada a quattro idogne dalle caselle di Tisane, il Belanciale di Tremoarze. Da Urdi, una prima ricostruzione, una macchina aveva appena sorpassato un camion, qua anche girante a colpe, attiapati in plane in speech dal separador di strade. La macchina è stata sbalciata, attiapata in plane propiti dal camion che arrivava tra la stessa direzione di marce. La macchina è a finire la soccorsa e qui entri dal garrail. Il botta le è succeduto un moment print agli svod di sere in direzione di Vignesie. A pierde la vita i tre personis di Lignan, Britta Culp, una femmine di nazionalità todesche di 73 Ains, Roberto Cartini di 59 Ains, nasciuta a Trevisce, e il guidatore Giovanni Dascoli di 74 Ains, calemot qualche ore dopo il ricovero in ospedale. Rilancia il rull dalla sanità pubblica, metti i BES che accoventi in parfallis assunzion, se torna fa partì i servizi sceras, tanti gli svodis medichis, ma anche valorizza il rull dei distretti e tira dentro i scindics. E i partiti devuè la riquelte di firmis a livello regional per domandare alla gionte di Massimiliano Fedriga di tornare a metti manda alla gestione della sanità. Ha aderito alle iniziative, quindi scomitazze e partizze politiche di opposizione. Sintì, Maria Grazia Santoro, consegire regionale dal Partito Democratico. Sintì, a Trieste, insieme a un grande comitato, di associazioni di cittadini, una vuole preoccupare per la sanità pubblica. Io credo che ogni cittadino che ha già provato, non ho avuto pensare a nome delle pandemie, ma anche anche in questi giorni, in cui le pandemie, insomma, non si lascia un po' di flat, c'è che vuole dire che c'è un esame, c'è che vuole dire che c'è un miede, c'è che vuole dire che c'è un pediatra di base. La sanità territoriale, insomma, è disminente, e anche le tagliate aziendali, che abbiamo potuto vedere, sono completamente annullate. Non siamo d'accordo su che si modifia, né tra i contenuti, né tra il metodo. Non è possibile che la sanità non vedi un dibattito, non vedi una clarezza, non vedi una trasparenza. E non siamo d'oggi che i cittadini si domandano più sanità pubblica, più trasparenza, più condivisione. A Dopravi, in Ligianizzante, per Impiail, fu che doni dalla parte di Chiasis e di Glegis a Gurizze, le immagini dalla videosorveglianza e qualche testimonianza hanno permettuto alla squadra immobili della questura di Gurizze di inchiastrare i responsabili. Sono tutti i giovani, con manco di digivotage, che sono stati segnalati alla procura del Tribunal Paiminoz di Trieste. Sono tutti gli episodi sotto inchieste, in tal giro dei ultimi mesi, e su che hanno investigato anche i carabinisti e la polizia locale. Dal sicuro che sfruzza, al comente il sindi di Gurizze e Rodolfo Ziberna, non si sono rindusconti dalla grande stupidà che hanno fatto e dai pericoli che loro stessi hanno corruto la sfida. E sarà che di faio diventare consapevoli dagli loro azioni salciere Ziberna. La col di reti lancia l'allarme per l'incresci dai costi di produzione. La confederazione è pronta a presentare i primi denunci, quinti degli sprati, chi si le ha alz. La confederazione ha domandato all'assessore regional Zanier di tirare sotto una riunione con tutti gli spazi interessati se vuoi allestare gli inquinti a Udin. Allora, sentine l'assessore Zanier. Una situazione che è molto preoccupante per gli allevatori della nostra regione, il presidio dell'AT e anche il presidio di Sparini. Sì, il presidio è intenduto come massa bassa rispetto a quel costo che l'azienda qui sopporta per arrivare a produrre. Questa è una situazione che ormai sta diventando difficile da gestire proprio perché è in quel momento peso rispetto all'aumento enorme che ha avuto la bolletta energetica di qualsiasi impresa. Ma questo penso che ognuno, anche il privato, si accade a quanto riguarda il costo che ha avuto sulla bolletta dalla luce piuttosto che dal gas. in pensare a queste imprese che già avevano un presidio che gli veniva fatta sicuramente bassa come assicchiata da via un costo che diventa anche di tre volte quindi è assolutamente impossibile arrivare a fare un'azienda in queste condizioni. È chiaro che su questo materiale è giusto che si viene a questo incontro a livello nazionale inoltre che si sintetica di provvedimenti che varanno arrivare proprio il parcerio di intervenire sul costo dell'energia per le imprese. È l'altità vera che alle enti necessarie mantengono una correttezza rispetto a quello che è il prisi che viene riconosciuto dal levator rispetto a che materia che il governo ha intenduto regolamentare con un decreto leate a queste che sono definite pratiche sleali che dalla semplicità significa che non può escipa un prisi più bassi che il costo di produzione. Che il costo di produzione come ho, è sicuramente tanto più alto dal prisi che tante aziende sono entrate dalla loro cassa quando si vanno a vendere il latte e su queste materie bisognerà fare un'azione di questi insieme per arrivare a riequilibrare. È chiaro che bisogna essere onestiti dal momento che tutto aumenterà aumenterà anche il costo del banco della distribuzione perché sicuramente questo sarà il risultato finale di un'azione di questo tipo. Però la situazione per l'impresa è che se continua questa condizione di comune non arriverà a stare in paese quindi asserranno le imprese e questo non credo che si possa permettere il discurso tra le nostre regioni ma non c'è il resto d'Italia. Sono sessantelte le domande dai comuni per progetti di riqualificazione dai piccoli paesi dai borgi rurali e dagli splacci approvati dalla giunta regionale su proposti dall'assessore delle infrastrutture Graziano Pizzimenti. I progetti finanziati per stabilire la regione sono stessi e selezionati sulla fonte di rigorosi criteri di assegnazione sono state scelte fra i miei 136 domande arrivati a ottobre. Il stanziamento complessivo è di 10 milioni di euro di un po' più alto finanziabile è di 20.000 euro. La ripartenza dai servizi di mens paesi studenti di gurizze che è un segnale importante per potenziare la vocazione universitaria e internazionale di queste citate dentro dal sistema di formazione del Friuli Vignese e Iulie. Lo ha detto l'assessore dell'università talessia rosolenta la presentazione dai servizi di mens paesi studenti dai Ateneos di Trieste di Udin che sta in D'Ura i corsi a pagina in tali sedi di gurizze e servizi che comincerà con l'unice e il 21 febbraio. Il GNUF è il ponte di risorazione al poterai esido prato potenzialmente dai 1.600 iscrizzi a 22 Ateneos dai giovani che frequentano gli istituti tecnici statali e di tutti il personale universitari. Con la prossima istat si potrà arrivare al placial dagli stieli di Udin con l'ascensore montato su palandrone di sottmonta su un D'Ura in davanti i lavori di realizzazione del secondo lot dall'opera e ho sentito dentro dal cantir con la vice scindic di Udin Loris Michelini. La lavori sta al placial dal cistiel di Udin per arrivare avevano praticamente la salita automatica e meccanica. Sì i lavori sono già partiti un mese fa con il primo lot e praticamente i vicini di biblioteche ho già partito con l'ascensore che è già arrivata a metà e come ho vinto il secondo lot il collegamento tra l'ascensore che è arrivato lì vicino alle cisterne che ieri di un'ascensore che è che è datato a 1.880 volte una roba importante perciò che vengono riqualificate interamente insieme anche alle collaborazioni con le sovrintendenze e da lì ho fatto anche le seconde salite con l'ascensore che arriva fino ad ogni alla vista del chiaschiel e quindi le ente poterà vengono su meccanicamente per prime volte vengono le biblioteche e anche tutti che hanno problemi di ogni tipo anche le persone anziane non vogliono dare più le ente che tirano le lingue si dicono ma poter visitare quelle bellezze più 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 ho credo che si dice il monumento più grande che vengono il palazzo più grande che vengono che il chiaschiel di Udink e quindi con queste salite meccaniche con i due ascensori che praticamente arrivano a Vigni Sud di la Ju delle biblioteche o completare finalmente che è una realizzazione che tiene veramente tante ringrazio ovviamente sia i contributi regionali che europei che sono arrivati sia anche gli uffici che hanno lavorato per poter mettere insieme il dott che non è facile perché lavorano su una roba diciamo di un certo tipo storica e ho aggiunto anche un'altra roba che non sono chiudine se sono i lapidari ho vinto i piedi che costituiscono le storie delle città di Udink addirittura dal medioevo fersali con l'ingvalorizzare dal punto di vista storico proprio ma storico e anche naturalistico perché lì ho voglia di fare un passaggio anche dal punto di vista naturalistico quindi qui morarsi e quant'altro e anche per lo snotta le dott gnovi salto nell'unis sembra snubo anche il vinto mandi e anche per l'ingvalorizzare